la coppa a aprirla ok allora manica e anche un passo è nato. Piano piano Direi che c'è buono non ha neanche corso, però la tirata sul era per aria e guarda che quota che ha preso senza far rimangolare una curva è troppo buono oggi è difficile scendere vedo va bene è bravo, cremente guardate 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 guardate